La Fiera dell'Antiquariato resterà al Prato perlomeno per l'imminente edizione di luglio in programma per sabato e domenica prossima. Questo quanto stabilito a conclusione del vertice tra prefetto, sindaco, questore, comandante dei carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e rappresentanti delle associazioni di categoria, nonostante quest'ultime spingessero per un ritorno alle origini della manifestazione, forti anche del consenso dello stesso primo cittadino. Abbiamo fatto due volte un progetto di ricollocamento dei banchi nella parte del centro storico che abbiamo discusso per ben due volte e la ringrazio con il signor prefetto che ha riunito per due volte il Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica, però le nostre proposte sono sempre risultate insufficienti rispetto all'attesa della prefettura e della questura, ovviamente di mantenere un distanziamento sociale non tanto tra i banchi, perché quello ci saremmo anche riusciti, ma tra i potenziali acquirenti che vanno a visitare, a vedere, a comprare. E il punto di discrimine è stato il posizionamento dei banchi sotto le logge, lì non c'è verso, non si riescono a tenere distanziati. Anche eliminando completamente i tavolini dei ristoranti, il prefetto ha visto questa eccessiva continuità dei banchi che sono 26 e quindi ci ha detto che sotto le logge non li voleva. E quindi l'unico altro posto dove avremmo potuti collocarli è il cortile del Comune, dove però tutti e 26 non c'entrano e a quel punto allora si deve andare a cominciare a tagliuzzare a destra e a sinistra la fiera e fare una fiera ridotta come numero di espositori, a dettali tutti, compresi le associazioni di categoria, compresi gli stessi antiquari e è stato quello di dire, vabbè, se si deve fare una cosa, diciamo, molto ridimensionata, meglio farla per come viene al Prato e l'edizione di giugno è venuta anche bene. Loro ne sentono una, diciamo, diminuzione della capacità di vendita perché c'è meno flusso di persone nelle strade che poi portano al Prato o comunque nelle strade del centro e hanno ragione, io che gli devo dire, hanno perfettamente ragione. Oltretutto la fiera è nata nelle strade, nelle piazze del centro storico, quindi lì deve ritornare. Anche il prefetto ha detto che questa è una misura straordinaria, una misura legata a un distanziamento sociale necessario, a un periodo di emergenza come è quello attuale, quindi ne prendiamo atto e vedremo cosa succede a luglio.